Buonasera, è seduto accanto a me il segretario della CGL Maurizio Landini. Buonasera segretario, benvenuto, ben trovato. Allora ieri a Milano si è svolta la seconda delle tre manifestazioni organizzate per sostenere le richieste della piattaforma unitaria, come diceva una volta CGL, CISL e Will, nei confronti del governo e delle imprese. Dopo la manifestazione del 6 maggio a Bologna, quella di ieri a Milano, ne rimane ancora una il 20 prossimo a Napoli. Volevo con lei analizzare i punti della vostra proposta. Sostanzialmente mi par di poter dire che voi lamentiate il mancato adeguamento dei salari alla crescita dell'inflazione, per esempio. Sì, questo è un punto. Accanto a questo noi chiediamo anche di superare la precarietà, perché i salari sono bassi, perché c'è troppa precarietà e non danno futuro ai giovani. Chiediamo una vera riforma fiscale, perché oggi il fisco grava sul lavoro dipendente e sui pensionati. La rendita finanziaria è tassata alla metà di quello che è tassato il lavoro. Poi c'è il tema dell'evasione fiscale. Ci sono 110 miliardi di evasione fiscale. C'è la sanità che non funziona, pubblica. C'è il diritto alla sanità che oggi è negato, c'è il diritto all'istruzione, alla conoscenza, alla formazione, che diventa un elemento fondamentale che non è negato. E tutto questo, secondo me, mette in discussione il futuro del nostro Paese. Perché quando ogni anno 100 mila giovani se ne vanno dal nostro Paese, perché qui non trovano le condizioni per poter lavorare, secondo me noi siamo matti se non capiamo che quello è un segnale che rischia di non dare un futuro al nostro Paese. Senta, ma come giudica il taglio del cuneo fiscale? Il Governo l'ha ridotto? Ma quella era una delle nostre richieste. La nostra critica è che l'ha ridotto per sei mesi. Che è temporaneo. Che è temporaneo. In più, noi non chiedevamo solo la riduzione del cuneo. Scusi, se la interrompo, ma se fosse permanente sarebbe compatibile con i conti? Beh, scusi, bisogna andare a prendere i soldi dove sono. E cioè, se tu... La discusione di scelta, insomma. Beh, certo, in una situazione in cui sono aumentati i profitti, sa, non lo dice la CGL, lo dice la Banca d'Italia, lo dice la Banca Centrale Europea. L'inflazione è dovuta a troppi profitti, non a salari alti. E il livello di crescita dei profitti e degli extra profitti in questa fase è uno scandalo e bisogna andare a prendere i dove i soldi... Per esempio, non è facile capire. Che cosa c'entra l'inflazione con l'aumento dei profitti? Beh, semplicemente... Voglio spiegare a chi ci ascolta. Beh, com'è che sono... come ci sono stati i profitti? Perché avendo la guerra è partita un aumento dei prezzi. Quelli che vendevano il gaso e l'elettricità non è che l'hanno pagato di più. Tranquillamente l'hanno fatta pagare a tutti 5-6 volte. E questa cosa ha determinato un aumento dei loro profitti e questa cosa ha determinato anche delle speculazioni. Perché sono aumentati i prezzi, ma non è che adesso che si abbassa il gaso, si abbassa l'elettricità, si abbassano i prezzi. E la stessa cosa è avvenuta, se pensiamo, alle banche. Perché questo ha determinato un aumento dei mutui, un aumento dei crediti. Ci sono banche che stanno dichiarando profitti mai visti, banche, sistemi di imprese mai viste. E quindi questo sistema sta determinando un aumento dell'inflazione senza precedenti. E la ricchezza di un Paese la produce chi lavora. Quindi da questo punto di vista per noi è necessario una vera riforma fiscale. E il Governo non sta facendo questa cosa. Perché il Governo ha presentato in Parlamento una riforma fiscale che è contro i principi della nostra Costituzione. Per noi c'è un principio. In un Paese democratico, giusto, ognuno deve pagare in base a quello che prende, in base a quello che ha. Tasse progressiva. E deve essere progressiva. La flat tax, lei dice invece... È una tassa piatta. E in più c'è un'altra cosa. Hanno introdotto un sistema. Mentre il lavoro dipendente e il pensionato, del suo reddito, il 40% diventano soldi che vanno allo Stato, se io prendo lo stesso reddito, 30.000 euro, da una rendita finanziaria, pago il 20%. Se ho 30.000 euro da una rendita immobiliare, pago il 20%. Il lavoro autonomo, anche quello più ricco, paga il 15%. Tutto questo è ingiusto. In più è stato introdotto un sistema, quello che chiamano forfettario. Cioè che mentre il lavoro dipendente e il pensionato paga su quello che prende, io che posso dichiarare quello che voglio e pago sul forfettario e nessuno viene a vedere quello che vede. A quel punto non pago neanche il resto. E siccome il fisco, cosa serve in un Paese? Serve ad avere una sanità pubblica. Serve ad avere delle scuole per tutti. Serve ad avere gli asili. Cosa sta succedendo? Che si sta tagliando la spesa pubblica, si sta tagliando la sanità, si sta tagliando la scuola. E siamo di fronte al fatto che sono quelli che stanno peggio, i lavoratori dipendenti, i pensionati, che pagano le tasse anche per quelli che le vadano, che non la pagano o che prendono di più. Io credo che questa sia un'ingiustizia che va colmata, ma non semplicemente per ragioni di giustizia, ma perché è il momento di fare investimenti per far crescere questo Paese. Quello che sta succedendo oggi nelle scuole, nei giovani, che si manifestano perché non riescono a avere i soldi per poter pagare gli affitti e per poter andare a scuola. Guardate che il problema del diritto alla formazione e alla conoscenza è un elemento fondamentale. Lei è andato peraltro alla statale, a Milano, davanti alla statale? Siamo andati lì come stiamo andando in tantissime altre scuole. Lei ha detto una cosa, alcuni studenti ci hanno contestato pensando che noi fossimo la controparte. Ma no, adesso mi ha anche detto questa cosa, erano quattro, erano quattro persone. Tra l'altro quelli che erano lì con le tende hanno detto che non li hanno mai visti. Ma al di là di questo, io penso che ci sia un tema di fondo perché oggi i giovani guardano avanti e guardano al fatto che non vedono un futuro perché andano avanti a sé la precarietà, sono sottopagati, vedono il rischio di non poter utilizzare l'intelligenza che hanno per poter cambiare questa situazione. E guardi, non solo oggi sono, ricorrono i cent'anni di Don Milani, no? Che era una persona che ha capito da sempre che la conoscenza è quello che fa la differenza anche sulle diseguaglianze. E oggi questo tema, io credo che sia un tema di fondo, ma oggi il figlio di un lavoratore dipendente rischia di non essere in grado di andare all'università. E noi siamo il paese che ha l'abbandono scolastico più alto. Siamo tornati al dopoguerra. Siamo tornati di fronte al fatto che il figlio di un lavoratore dipendente, se gli va fatta bene, fa il precario tutta la vita. E questa cosa è una follia, insisto. A me è capitato il primo maggio, quando abbiamo fatto la manifestazione a Potenza, la prima persona che ho incontrato quando sono arrivato, era un signore, quasi con le lacrime agli occhi, che mi diceva io ho fatto tutti i sacrifici di questo mondo per mandare i miei figli a scuola. Ieri, il giorno prima, sono partiti per andare all'estero perché qui non trovano da lavorare se non a condizioni inaccettabili. Questa cosa qui dovrebbe far riflettere tutto, perché vuol dire che c'è un sistema sociale ed economico sbagliato che va cambiato. Non è il momento di dividere ancora di più il paese. Noi andremo a Napoli anche per dire che l'esigenza di questo paese non è l'autonomia differenziata, non è dividere ancora di più questo paese. L'esigenza di questo paese è unire il lavoro, è applicare la Costituzione, è garantire i diritti fondamentali per far crescere questo paese. Quali dovrebbero essere, segretario, gli interventi specifici per il Sud, visto che proprio andate a Napoli? Beh, innanzitutto bisogna dargli quelle strutture, quelle infrastrutture che non hanno, quei servizi sociali che non hanno. Non hanno gli asili, non hanno le scuole, hanno un abbandono scolastico, è il livello dove la disoccupazione femminile è la più alta e il numero dove i giovani se ne vanno via. Ad esempio, se parliamo di futuro, noi dobbiamo pensare a quale politica energetica facciamo e dobbiamo investire sulle fonti rinnovabili, sul sole, sull'acqua, sul vento. Qual è la parte del paese che può essere più utilizzata anche in questa direzione? La dico banalmente, ma bisogna avere un sistema. Non è il momento delle piccole patrie, delle piccole regioni. Siamo in un mondo che o hai una dimensione europea, o hai una dimensione nazionale e non vai da nessuna parte, ma allora al centro devi rimettere il lavoro, devi rimettere la persona. E io insisto, devi andare a prendere i soldi dove sono, perché le ingiustizie che ci sono determinate sono grandissime. Perché considero la riforma fiscale un punto fondamentale? Perché è lì che devi andare a prendere le risorse da redistribuire per fare gli investimenti, per creare lavoro, per fare una sennità degna di questo nome. E penso che giustamente la domanda che arriva dalle nuove generazioni è quella di poter fare con il loro lavoro un cambiamento economico, sociale, anche dei sistemi di produzione, come costruissi le città, come costruissi i prodotti, il rispetto dell'ambiente. Ecco, tutto questo oggi non avviene. Perché abbiamo manifestato? Perché il governo con noi non sta discutendo. Sono quattro mesi che non ci si incontra. L'ultimo incontro ci hanno convocato la domenica sera, prima del primo maggio, alle 19.30, per dirci che il giorno dopo prendevano dei provvedimenti. Questa è una presa in giro. Ma non lo dico per Landini, non sto facendo una cosa personale. Sto semplicemente dicendo che Cigelle e Cisleville, piaccio o non piaccio, rappresentano milioni di persone che sono quelle che tengono in piedi questo Paese. E io penso che sia un diritto di quelle persone lì poter essere coinvolte nelle scelte che vengono fatte. Siamo noi che paghiamo le tasse, siamo noi che teniamo in piedi questo Paese, vogliamo poter garantire un futuro a questo Paese, vogliamo fare la nostra parte. E se qualcuno pensa che di fronte a questa complessità, io una situazione così difficile non l'ho mai vissuta, non sto dicendo che è semplice o che è facile, dico che è difficilissimo. Ma se uno pensa che da solo è in grado di risolvere questi problemi e pensa che la strada è quella della precarietà, allargare i voucher, fare i contratti a termine, colpire quelli che sono poveri, fare i condoni fiscali anziché colpire l'evasione fiscale, io dico non ci sto, non sono d'accordo. E quindi il sendere in piazza è proprio il momento per dire, non per protestare, ma per sostenere un cambiamento di questo Paese. E io penso, visto che c'è tantissima gente che sta venendo, queste manifestazioni erano partecipatissime, con tantissime persone presenti. Io penso che sia il momento di allargare questa partecipazione, questa mobilitazione. I rapporti con il governo li ha chiariti, però questi problemi arrivano da molto lontano, cioè non si può imbutare a questo governo naturalmente. No, ma come ho detto questo governo, certo il Jobac non l'ha mica fatto questo governo, la precarietà, ma loro anziché cambiarlo, come gli abbiamo chiesto, l'hanno peggiorato. Scusi, il primo maggio chi gliel'ha chiesto di allargare i voucher? Perché non si fanno pagare loro con i voucher? Se è così bello essere precari e avere contratti a termine, perché non si fanno loro con contratti a termine? Ma un giovane, ma un giovane con quale prospettiva, con quale prospettiva, di quale paese può pensare se la sua prospettiva è lavorare? Io penso che quando uno gli proponga un mille euro al mese per dieci euro al giorno fa bene a rifiutare quella condizione. Non sono condizioni che non si possono accettare. Non so se chi hanno. Non è da paese civile. E quando ci sono queste diseguaglianze io penso che è il momento di ribellarsi. Non si può accettare questa condizione. Un'ultima cosa. Lei il 2 maggio ha detto di non escludere lo sciopero generale. È ancora dello stesso avviso? Sì, assolutamente sì. Io penso che noi non dobbiamo escludere nulla. Fino a quando non abbiamo ottenuto i risultati. A me non mi interessa fare lo sciopero generale per dire che l'ho fatto. A me interessa usare tutti gli strumenti. Siamo partiti con le mobilitazioni, con le assemblee. Usare tutti gli strumenti, non escludendo se sarà quando è il momento, anche lo sciopero generale. Perché a me interessa portare a casa dei risultati per le persone che rappresento. Io voglio che quando uno lavora non sia povero come adesso, ma possa vivere digniosamente. Non deve essere precario. Voglio un sistema sanitario pubblico che garantisca la salute a tutti. Non come succede adesso che ho liste d'attesa di un anno e se non pago non sono in grado di curarmi. Voglio che il diritto alla cultura, allo studio, alla formazione diventi un diritto permanente per tutti. Non solo per quelli che se lo possono permettere. Allora, per queste ragioni, se continuano a non darci risposte, io penso che ci muoviamo. Ma anzi, le dico una cosa in più. A fine mese ci sarà il congresso dei sindacati in Europa. E noi ci presenteremo lì come sindacato italiano per chiedere che nel mese di giugno si arrivino anche ad alcune giornate di mobilitazione di tutti i lavoratori europei. Perché oggi è in discussione il modello d'Europa. Se al centro c'è il lavoro o se continua a esserci il mercato, il profitto, l'impresa, se si cambiano queste condizioni. E siccome in Europa, come si vede, c'è una certa mobilitazione in tutti i paesi, in Germania, in Francia, in Inghilterra, in Belgio, dove addirittura si sta mettendo in discussione anche il diritto di sciopero in quei paesi. E quei paesi ci chiedono di fare una battaglia comune. Io credo che vado affrontato. Del resto, il primo maggio, mi faccia dire solo questo, il primo maggio è diventato festa non perché l'ha regalato qualcuno, ma per la lotta dei lavoratori. E il primo maggio, vorrei ricordare a tutti, partì alla metà dell'Ottocento negli Stati Uniti, quando si facevano 12 ore al giorno perché quei lavoratori rivendicavano 8 ore per lavorare, 8 ore per dormire e 8 ore per svagarsi e per vivere dignitosamente. Io penso che noi siamo tornati in una situazione di quel genere lì. E mentre adesso nel mondo i lavoratori debbono competere tra di loro per vivere, io penso invece che sia arrivato il momento che le persone che lavorano debbono poter utilizzare la loro intelligenza per costruire un mondo diverso che non sia fondato sul profitto e sullo sfruttamento delle persone. Grazie, segretario. Buona manifestazione al 20 a Napoli. Grazie. Ci aremo in tanto. Posso andare? Grazie. Sono sicuro.